Sotto questa pioggia maledetta, una sfida incandescente che non rispecchia il clima autunnale dal campo sportivo Terni di San Romano, ottava giornata del campionato di promozione Toscana Gironia, Castelnuovo Garfagnana Lampo Meridie 1919, ecco le due squadre che entrano in campo il Castelnuovo con la tenuta classica giallo-blu, invece il Lampo Meridie tenuta bianco e nera andiamo subito alle formazioni prima dell'entrata in campo dall'1 all'11 per il Castelnuovo Garfagnana di Massimiliano Pisciotta La Bozzetta, Bonaldi, Santelli, Biagioni, Inglese, Giusti, Casci, Bartolomei, Camagliani, Pieretti e Belluomini Impanchinadini, Faraglia, Gafoli, Grassi, Biagioni, Riccardo, Tersini, Montagnani, Filippetti e Baroncini invece per il Lampo Meridie, da l'1 all'11, Bartolozzi, Fattolini, Semi, Mazzanti, Massaro, Del Sorbo Chianese, De Vito, Del Fa, Maiorane, Bastoggi in panchina, Tiribasso, Taverna, Fraschi, Calandra, D'Angelo, Sabatini, Pirone Vitole, Fresca per il mister Federico Montagnolo la terna arbitraria di oggi, l'albito signor Federico Giacomelli della sezione di Pisa il primo assistente Simone Mazzoni della sezione di Prato il secondo assistente Ardit per dosage della sezione di Firenze spero di aver pronunciato bene il nome e il cognome del secondo assistente ecco le due squadre che si salutano tra poco l'inizio del match inizia ora Castelnuovo Lampo Meridie fischia ora l'albitro di Pisa va il numero 10 la bozzetta blocca imposta Massaro attenzione avanza Massaro cerca attenzione dal limite il tiro, traversa occasione clamorosa per Del Fa che è arrivata al limite dell'aria ancora sempre basso attenzione Massaro svirgola e la palla passa vicino al palo cercare attenzione per gli uomini palla dentro non c'è nessuno però Pieretti con il destro deviazione doppia attenzione Kashi stop in di Kashi 1-0 Castelnuovo sfrutta davvero punta anche se non lo è un rimpallo sfortunato dell'Abo Meridiem e riesce a metterla dentro 1-0 Castelnuovo il gol del numero 7 Biondo fischia ora l'albitro di Pisa ma col mancino Belluomini dentro interessante di pugno portiere attenzione Kashi ricicla la palla per Belluomini bravo Bartolozzi ancora Belluomini Santanuomo Belluomini Belluomini in aria Pieretti da fermo da fermo para cambio di campo di Majorana allora di Vito cross dentro gran colpo di testa di Bastoggi gran colpo di testa di Delfa ed è 1-1 di Majorana scusate di Majorana colpo di testa importante di Majorana Bacchianese chiama lo schema palla dentro colpo di testa di Dessarbo cosa ha preso la bozzetta allora Belluomini avanza Belluomini Belluomini chiude Massaro allora Bartolomei fuori si muove molto Bartolomei sale anche Bonaldi Peretti dentro attenzione Kashi di testa Bartolozzi blocca centimiti del lampo si fanno sentire la Chianese palla dentro attenzione Bartolomei libera in qualche modo allora Bastoggi Bastoggi prova a saltarne due ancora crossa dentro attenzione cosa ha salvato Pieretti ma Chianese ha la battuta dentro attenzione mischia gol di Massaro Pum Pum Massaro non quello del Vila ma quello dell'Apo 2 a 1 attenzione Chianese ne può approfittare Chianese Chianese si affida di Vito in aria di Vito tiro centrale la bozzetta la fa sua palla per Grassi spizzata ma libera il giocatore dell'entrata del lampo Bartolomei Bartolomei tiro fuori allora forse l'ultima azione Bonaldi sbaglia il passaggio e finisce qui il Lago Meride ne spugna il campo Garfagnino del Castelnuovo 2 a 1 decide lo zampino di Massaro da Gianmarco per te tutto alla prossima